Un seguace del canale YouTube della JazzDram Academy, dove trovate tante lezioni gratuite, pdf da scaricare e questa rubrica che prosegue inaspettatamente per me con un numero di video mostruoso, non me l'aspettavo nemmeno io di arrivare a oltre 200, mi chiede, ma fai dei video nella tua saletta con la batteria? No, perché non credo che nessuno abbia bisogno di vedere queste perle incorniciate da io che suono, chi se ne frega, cioè io la vedo così, poi capisco che qualcuno dirà beh stai dicendo una cretinata pazzesca, io voglio vedere come suoni, sì però consideriamo che nel canale YouTube ci sono già decine di video nei quali suono e nei quali spiego dei concetti musicali, tecnici, stilistici, quindi vorrei dire al mio amico e ad altri che si pongono questo quesito, ma perché non suona e parla e basta? Beh è nel mio intento di fare anche una rubrica pubblica un po' diversa dal solito, trovo divertente per quanto riguarda me, se no non l'avrei neanche fatta, proporre una rubrica come se fossimo io e te seduti a un tavolino al bar e tu mi fai delle domande e io ti rispondo, dei concetti sui quali uno può riflettere, può non essere d'accordo, al di là del suonare, la tecnica o degli esercizi o dei groove, quelle ci sono, quelle li faccio anch'io, però questa rubrica è nata così, in rete c'è di tutto, però io non ho trovato una rubrica nostra batteristica con un pirla come me che parla, racconta, si espone, si confida, racconta le proprie debolezze, oltre che ai propri pregi, il proprio punto di vista, a me fa piacere, come ho detto in un altro video, incontrare i miei colleghi e parlare con loro, raccontare anche non di musica e non semplicemente incontrarsi per andare in saletta a suonare due ore, è bellissimo ma è una cosa che a me non è mai interessata neanche quando ero giovane, io quando frequentavo i miei maestri, Carlo Sola, Franco Campioni o anche i miei maestri non batteristi che mi hanno cresciuto, ascoltavo quello che dicevano, qualche volta magari dicevano delle stupidate e chissà quante ne dico io, però anche questo fa parte della conoscenza, io ti posso dire, ti posso esprimere un concetto a te ignoto sul quale rifletti, ti posso esprimere anche una cosa sulla quale tu sei completamente contrario e quindi anche questo ti serve. A me piace telefonare a Ellade Bandini e stare un quarto d'ora al telefono e sentirlo parlare di qualcosa, che sia musica o che sia arte o che sia gastronomia, ecco io da Ellade da quando l'ho conosciuto negli anni Ottanta lo adoro perché oltre ad essere un grande artista è un uomo che può farmi riflettere su tante cose, non mi paragono a Ellade, non ho la sua età e quindi non ho la sua esperienza, però anch'io ho conosciuto tanta di quella gente, incontri meravigliosi, incontri brutti da dimenticare, tutto è servito a farmi percorrere la vita con qualche allarme acceso, fidandomi di tutti ma anche di nessuno, dando retta a tutti ma poi ragionando con la mia testa e questo grazie a cosa? Non certo ai video dove uno suona ma agli incontri dove si dialoga. Credo che un musicista cresca e migliori grazie agli incontri che fa e alle chiacchierate che fa con le persone più anziane di lui, più esperte di lui o anche più giovani di lui ma più talentuose, fa parte della vita di un musicista, è bello suonare, è bello studiare, è bello ascoltare musica ma è bello anche dialogare e riflettere su dei concetti che ci possono ampliare la nostra visuale di vita e quindi artistica e professionale.